un saluto da ivan paparella e ben ritrovati sul canale youtube di cellulare magazine oggi conosciamo xiaomi 12 t pro uno smartphone del quale vi ho in realtà già parlato alcuni giorni fa direttamente dal bmw felt di monaco di baviera dove il show ha organizzato la presentazione di tutte le sue più recenti novità un evento molto importante che coinvolgeva moltissimi giornalisti da ogni angolo del mondo noi ci concentriamo ovviamente sui più recenti smartphone con 12 t pro oggetto di questa recensione e 12 t del quale vi parlerò un pochino più avanti xiaomi 12 t pro è un telefono che va certamente a collocarsi in una fascia altissima del mercato principalmente a ragione di una scheda tecnica da primo della classe un dato su tutti c'è la presenza del system on chip di qualcomm lo snapdragon 8 generation 8 plus generation one quindi verosimilmente il probabilmente il processore più prestante oggi disponibile sul mercato ma le novità non finiscono qui perché in realtà questo telefono permette a xiaomi di far comparire per la prima volta nella propria gamma un sensore fotografico da ben 200 megapixel ma ci ritorniamo tra pochissimo vi dicevo che questo 12 t pro va a collocarsi nella fascia altissima del mercato quindi parliamo anche di prezzi perché qui c'è da fare qualche distingo perché il listino è fissato in 849 euro per la versione 8 256 che stiamo provando in questo momento 50 euro in più quindi 899 euro per la versione 12 256 tra le altre cose in questi giorni di lancio sono attive diverse interessanti promozioni che prevedono in un caso addirittura di poter ricevere il tablet il nuovo tablet di xiaomi lanciato sempre nell'evento di cui vi parlavo poco fa oppure di beneficiare di un importante sconto che vi permette di portarvi a casa la versione 12 256 addirittura a 749 euro intendiamoci in tutti i casi stiamo parlando di cifre importanti che però in realtà sono leggermente più basse ad esempio delle versioni 12 pro che abbiamo provato più o meno all'inizio dell'anno che riescono ad andare anche oltre ai 1000 euro ci sono alcuni dettagli tecnici ovviamente che differiscono tra uno smartphone e l'altro ma questo xiaomi 12 t pro va a collocarsi direi nella fascia dei top di gamma in una zona in una nicchia leggermente più più economica quindi la possibilità di acquistare un prodotto estremamente potente anche dal punto di vista prestazionale e godibile in tutte le sue funzioni ma andiamo ad realizzare il telefono in tutti i suoi dettagli il design non è particolarmente innovativo questo non vuol dire che non sia che non sia bello la cornice direi che è una buona simmetria i profili sono anche molto sottili la parte posteriore prevede questo cover in vetro che trovo estremamente piacevole tutto riesce quasi a non trattenere in nessuna maniera sporcizia editate e ovviamente c'è questo modulo fotografico con dimensioni estremamente generose con il sensore principale vi dicevo da 200 megapixel allora il display è un pannello amoled con diagonale da 6,67 pollici un pannello con un buon picco colore se arriva xiaomi dichiara un picco di 900 nit non siamo al massimo livello possibile ci sono concorrenti che fanno certamente meglio ma direi che è un livello di luminosità che va bene va benissimo per l'utilizzo quotidiano che oltretutto viene anche supportato secondo me da una resa colore veramente veramente interessante la riproduzione di colori è molto molto piacevole direi anche piuttosto realistica risoluzione del display 1220 x 2712 con un rapporto ppi di 446 nella parte superiore abbiamo chiedo scusa una fotocamera frontale in quella inferiore i pulsanti che ci permettono di interagire con android 12 su cui lavora la MIUI 13 se volete come al solito potete utilizzare le più recenti gesture di android c'è anche la capsula auricolare nella parte superiore lo spessore è appena appena superiore agli 8 mm 8,6 per esattezza il peso di 205 grammi direi che non è leggerissimo non è piccolissimo ma è un telefono che si lascia trasportare in modo molto molto semplice controllo del volume e pulsanti di accensione qui sulla destra nella parte superiore abbiamo il secondo altoparlante e anche un trasmettitore a infrarossi che permette al telefono di comandare periferiche compatibili nulla sul profilo di sinistra nella parte inferiore abbiamo l'altoparlante di sistema il microfono principale un connettore usb type c e uno slot che ci permette di ospitare due nano sim purtroppo non c'è la possibilità di espandere la memoria con supporti micro sd e ahimè avete visto non c'è neanche il jack audio da 3,5 mm torniamo a parlare di fotocamera sensore principale da 200 megapixel accoppiata a una lente f1.7 c'è poi un elemento secondario da 8 megapixel f22 ultra wide e una terza lente per la macro fotografia in questo caso abbiamo una lente f2.4 batteria 5000 mAh e anche qui c'è qualcosa di interessante da dire dico anche qui perché avevo in mente di parlarvi di un numero molto importante che è il 120 ho dimenticato di dire che il display è una frequenza di aggiornamento a 120 Hz questo medesimo numero lo ritroviamo anche per ciò che riguarda il sistema di ricarica della batteria che può arrivare fino a 120 watt una velocità di ricarica veramente altissima che consente di portare la batteria da 0 a 100 in 19 minuti quindi una grandissima comodità inoltre direi che una delle peculiarità del recente processore di Qualcomm lo Snapdragon 8 Plus Generation 1 è quello di aver migliorato l'efficienza energetica e lo sviluppo delle temperature di esercizio di fatto questo telefono scalda veramente molto poco e questo ha un impatto estremamente positivo anche sulla resa della batteria che non viene ovviamente coinvolta in innalzamenti abnormi della temperatura questo consente di avere una scarica piuttosto costante dei consumi e è un telefono con un livello di autonomia molto buono se arriva sera senza il minimo problema e si può arrivare tranquillamente anche nelle prime ore della giornata successiva ma se siete dei chiacchieroni, se usate tantissimo i social, se tenete acceso tantissimo il display sappiate che con il voluminoso caricabatterie che trovate in confezione riuscite a caricare questo telefono letteralmente in un lampo quindi ottimo ottimo lavoro anche da questo punto di vista ho dimenticato un'altra cosa che è il fingerprint, rimedio subito il fingerprint è collocato alla base del display e devo dire che funziona molto 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 bene andiamo a vedere anche gli altri dettagli delle impostazioni di questo di questo telefono che naturalmente prevede la presenza della MIUI di Xiaomi allora da dove partiamo? partiamo dal display dove troviamo la possibilità anche di attivare la modalità scura tutti i livelli di numerosità, la combinazione di colori, la frequenza di aggiornamento della quale vi parlavo poco fa che potete spingere fino al 120 hertz importante anche la presenza del motore di intelligenza artificiale che va a potenziare moltissimi aspetti di ciò che viene riproposto sul display si può arrivare a un aumento dell'ulteriore della risoluzione durante la proposizione di evento dei video si può ottenere anche un maggiore livello di fluidità del video stesso il potenziamento con l'HDR proprio della resa colore quindi anche della gamma dinamica del colore che viene riprodotto tutti i dettagli che ci consentono di avere un miglioramento globale dei contenuti che vengono riprodotti dal display poi qui ci sono tutti gli altri dettagli, si può lavorare sulla dimensione del testo, sul tipo di font quindi abbiamo tantissime possibilità di scelta andiamo a vedere anche qualcosa altro interessante password e sicurezza, vi ho parlato poco fa del fingerprint vediamo, vediamo qui protezione privacy ecco qui nelle applicazioni ci sono delle cose importanti perché potete utilizzare il blocco app, quindi rendere inaccessibili alcune applicazioni se il telefono non ottiene il riconoscimento del proprio utente tramite uno dei sistemi di sblocchi, fingerprint, riconoscimento del volto, il tracciato o la password quindi questo è molto comodo se per esempio facciamo usare il nostro smartphone a qualcuno ma è molto ben realizzata anche la funzionalità di app clonate perché la MIUI permette di lavorare su moltissime applicazioni la gran parte dei concorrenti ne scelgono 3 o 4 che sono quelle più importanti quelle dei social network, quelle dei servizi di messaggistica istantanea qui tra quelle che ho installato me ne propone già 25 ma è un numero variabile perché in base alle applicazioni che io scarico sul telefono lui mi dirà se posso o non posso clonare anche quel tipo di applicazione per quei pochi che non lo sapessero app clonate ci dà la possibilità di utilizzare per esempio due account su un medesimo servizio se vi registrate a uno social network e avete ad esempio non so un account che usate per lavorare e uno privato potete gestirli senza problemi stessi e entri con ragionamento per un servizio di messaggistica istantanea quello più conosciuto naturalmente Whatsapp trovate qui nella voce applicazioni questo tipo di funzionalità impostazioni aggiuntive vediamo se c'è qualcosa di interessante funzionalità speciale volevo farvi vedere frequenza cardiaca anche in questo caso c'è qualcosa di molto utile e anche divertente utilizzando il fingerprint lo smartphone vi chiede di riportare 15 secondi di pazienza e vi rileverà la frequenza del vostro battito cardiaco è anche questa una comodità notevole andiamo a vedere anche nella cartellina degli strumenti c'è un buon registratore vocale c'è un bellissimo servizio di note si può anche scrivere a mano libra credo di aver tenuto qualcosa prima ecco qua per esempio ho scritto appunto Xiaomi 12T Pro ho scritto a mano libra quindi è come avere un taccuino sempre a disposizione ma c'è anche il servizio Mi Remote che utilizzando la tecnologia hardware quindi la presenza del trasmittore a infrarossi ci permette di comandare delle periferiche compatibili banalmente potete utilizzare il telefono come un telecomando per cambiare i canali al televisore andiamo a vedere anche i nostri consueti test partiamo dalla parte telefonica c'è una sim di fast web su questo telefono quindi attiviamo subito il viva voce venuto nel servizio clienti fast web allora la parte telefonica è una parte telefonica che trovo soddisfacente nel suo complesso c'è una buona qualità acustica complessiva il volume è piuttosto alto non è altissimo ma anche quando portato al livello più alto non tende a distorciare troppo la voce né in capsula né nel viva voce quindi si riesce a usare agevolmente senza problemi ho usato questo telefono veramente tantissimo perché è arrivato alcuni giorni prima dell'evento di Monaco di Baviera del quale vi parlavo all'inizio di questo video ho fatto due viaggi all'estero con questo telefono utilizzando tanto roaming anche due sim differenti e devo dire che si è comportato molto bene anche per ciò che riguarda la ricettrasmissione del segnale andiamo a vedere la navigazione internet ecco prima parlavamo dei processori di Qualcomm sta arrivando qualche novità anche sulla fascia medio alta molto buona la resa anche nella circostanza di utilizzo della navigazione quindi del web non ci sono rallentamenti non ci sono scattosità veramente funziona che è una meraviglia come si dice andiamo a vedere la fotocamera o meglio le fotocamere e andiamo a vedere anche come funziona questa 200 megapixel che è a bordo di questo telefono allora l'interfaccia è un'interfaccia ormai che conosciamo in memoria su tutti i telefoni Android o almeno su quasi tutti i telefoni Android con la possibilità di variare il contesto di utilizzo semplicemente muovendo a modo di cursore tutte queste impostazioni nell'ultima voce che si chiama altro ci sono tante cose interessanti perché c'è ad esempio la possibilità di utilizzare la funzionalità vlog quindi il telefono mixa alcuni contenuti che abbiamo acquisito creando proprio un contenuto che va benissimo per i vlog c'è la modalità doppio video quindi il telefono utilizza contemporaneamente la fotocamera frontale e quella principale potrete ottenere o una divisione a metà del display oppure avere il classico franco bollo quindi il picture in picture come dicono quelli che parlano bene e avere la possibilità di avere una doppia immagine nel display ma c'è una cosa interessante che è anche Ultra HD Ultra HD attiva la modalità di scatto a 50 megapixel ma se volete vedete che compare anche il pulsante per i 200 megapixel ecco in questo caso il telefono si predispone per scattare a 200 megapixel poi vediamo anche qualche immagine modalità video che può arrivare addirittura fino all'8k a 24 fps o il 4k fino a 60 fps direi che è quasi diventato un nuovo standard possibilità di attivare l'HDR di lavorare sul flash quindi che può anche lavorare in maniera forzata quindi sempre attivo o con la resa automatica c'è anche la possibilità di scattare in modalità Pro quindi con il controllo completamente manuale delle immagini allora c'è anche una cosa interessante se si scatta a 200 megapixel c'è una funzionalità che consente al telefono di attivare ma credo di riuscire a farvelo vedere scusatemi se sto indugiando ma credo di riuscire a farvi vedere ma partiamo da questa grigliata di carne di qualche quasi dieci giorni fa c'è questo pulsantino se lo premete si attiva la modalità Xiaomi Pro Cut il telefono va ad analizzare l'immagine e vi propone di estrapolare dallo scatto a 200 megapixel foto con un formato diverso che può essere il formato originale quadrato, 4 terzi o 16 noni ma anche di selezionare più immagini per avere una sorta di mosaico delle immagini che avete acquisito questo è uno dei perché della presenza di un sensore con una risoluzione così alta perché potete andare a decidere di perdere alcune porzioni di immagini che magari raccontano qualcosa di poco utile della vostra fotografia e andare a concentrarvi su elementi più importanti ma facciamo una cosa io qui ho ottenuto tantissime immagini quindi vediamo di andare velocemente ne ho ottenute forse fin troppo questo è il giocattolino colorato che utilizziamo questi sono degli screenshot vediamo di superarli velocemente modalità ritratto questa è proprio la modalità ritratto integrata nel telefono in una condizione di luce che lascio volutamente poco facile per lo smartphone un ambiente scarsamente illuminato c'è una fonte luminosa che arriva dalla parte di destra guardando la fotografia è evidente che c'è una migliore resa in questa zona della fotografia che peggiora in maniera evidentissima nella parte di sinistra la cosa interessante è che anche durante lo scatto potete, vedrete comparire questo piccolo cursore che va di fatto a simulare il diaframma se lo premete avete la possibilità di ridefinire ulteriormente lo sfocato si può arrivare addirittura fino a f1.0 ovviamente andando a modificare completamente la profondità di campo si può arrivare a f16 la resa mi sembra abbastanza buona però c'è qualche dettaglio secondo me che si può migliorare dietro a questo questo manichino che uso per fare i test di ritratto in ambienti chiusi diciamo quindi con una sorta di luce controllata c'è una mia immagine un mio un mio ritratto un quadro fatto a mano con che è un pochino troppo visibile in questo caso l'algoritmo si è fatto un pochino ingannare ed è troppo presente nella parte posteriore forse riesco a farvelo vedere eccolo qua qui si vede molto di più questa invece è un'immagine no scusatemi è questa l'immagine scattata in maniera automatica lo sfondo è molto più presente però la parte posteriore si vede anche nella modalità ritratto secondo me un pochettino un pochettino troppo la resa è buona però c'è qualche dettaglio che si può migliorare qui c'è una serie di foto e di video perché rientrando proprio da Monaco di Baviera c'è stato uno spettacolo di nubi e di panorami di quelli che levano veramente il fiato che ho indugiato forse fin troppo nell'acquisire immagini che poi prima o poi magari troverò il modo anche di di montare in un in un video qui una mangiata il classico stinco bavarese l'abbiamo mangiato assieme gli amici di Xiaomi e anche tanti colleghi che erano presenti quella sera al tavolo c'è una resa anche in questo caso questo ovviamente è con è acquisita con l'immagine frontale certamente sono meglio riuscite le figure nel primo piano un po' meno bene quelle quelle in fondo al tavolo ma comunque un selfie anche piuttosto ben ben riuscito andiamo a vedere qualche altra qui immagini di momenti dell'evento eravamo in un in un vero e proprio c'era un palco con delle gradinate qui parte dei prodotti le cuffie Bass Pro che ho qui anche di fianco a me il nuovo Realme Pad e qui parte di questa meravigliosa creatura di BMW che vicino al proprio quartier generale ha creato questo questo spazio con degli spazi a disposizione anche degli eventi ma soprattutto con l'esposizione quasi muscolare della propria tecnologia presente e passata qui ci sono immagini che vanno mettendo in difficoltà senza dubbio il reparto fotografico per il contesto per le condizioni di luce ma si è comportato piuttosto bene qui una serie di immagini durante le quali ho provato a forzare volutamente anche lo zoom allora qui quando si arriva ovviamente a estendere lo zoom digitale si va a perdere un pochino di dettaglio ma ovviamente va usato solo in condizioni particolarmente gravose quindi quando non si ha diciamo altra scelta qui sempre amici e colleghi al lavoro ci divertiamo anche un pochino a prenderci in giro mentre mentre siamo a lavorare anche qui una serie di altre immagini queste credo di averle acquisite addirittura dall'interno del pullman ecco andiamo a vedere anche questi scatti in condizioni meno meno favorevoli ecco qui ci sono due immagini queste le ho lasciate volutamente per questo ogni tanto capita proprio in quell'inquadrescata che il telefono possa identificare un punto di messa a fuoco che non è corretto ovviamente volevo fare fuoco su questo dolce che ci è stato presentato come un tiramisù un pochino diciamo rivisitato però il fuoco è cascato sul piatto e sul bicchiere e sulla bottiglia mentre ecco diciamo che era questo che volevo che volevo ottenere poi ovviamente ci sono ci sono riuscito anche qui ancora del cibo sempre di quella di quella sera qui eravamo a spasso per Monaco di Baviera con una divertentissima guida turistica che ci ha raccontato tante cose di questa che io trovo essere una bellissima una bellissima città anche qui mi sembra che sia un comportamento piuttosto piuttosto interessante all'aperto allora andiamo a concentrare ecco qui la guida di cui vi parlavo poco fa allora le immagini sono tendenzialmente delle immagini di buona di buona qualità allora vediamo se riesco a tornare indietro ecco qui allora queste sono delle immagini che vale la pena osservare perché anche queste sono scattate in condizioni estremamente complicate questo è un cincillaero a casa di amici che hanno questi due meravigliosi animaletti che sembrano dei peluche sono buonissimi veramente divertenti affettuosi guardate la resa dei baffi come è ben presente come si vede davvero bene questa è l'immagine uno per cui ho provato anche a utilizzare lo zoom che comunque riesce a mantenere direi un dettaglio piuttosto piuttosto buono queste invece sono le foto di sera che sono ovviamente quelle che creano maggior difficoltà anche un sensore così ricco di megapixel allora secondo me c'è una resa nettamente migliore della fotocamera principale rispetto alla ultrawide soprattutto nel contenimento del rumore della parte del cielo sicuramente la situazione ha un ulteriore importante miglioramento quando si scatta con la modalità notturna allora le immagini nel complesso sono delle immagini di buon livello anche direi utilizzabili in ogni tipo di circostanza non siamo in presenza del miglior camera phone sul mercato ma comunque di un telefono che scatta direi piuttosto bene in tutte le situazioni ve lo dice anche il telefono quando decidete di attivare la modalità ad alta risoluzione o a 50 o a 200 megapixel vi viene consigliato ed è un consiglio quanto mai opportuno che ci siano delle buone condizioni di scatto allora mi è chiarissimo un discorso che è quello di dover ragionare sulla reale utilità di un sensore così denso di megapixel anche se le dimensioni complessive del sensore sono certamente piuttosto piccole allora di norma è chiaro che da qualche parte la coperta sarà corta perché ci sarà la comparsa di rumore digitale in maniera molto precoce ma soprattutto quando si scatta in scarse condizioni però c'è anche qualcosa che merita di essere analizzato quando ci sono delle buone condizioni di luce che sono buone non vuol dire tantissima luce deve esserci una luce corretta per permettere al sensore di raccogliere i dati in maniera adeguata e di risolvere di rendere leggibile l'immagine ecco in quel caso la presenza di una di un così alto numero di megapixel ci permette di eseguire dei crop quindi di porzionare in maniera intelligente le immagini e in quel caso i 200 megapixel possono essere assolutamente utili quindi non andrai a demonizzare la presenza di un sensore di questo tipo credo di aver fatto questo ragionamento anche qualche giorno fa con un altro telefono sempre da 200 megapixel la mia opinione non cambia perché in alcune circostanze particolari questi sensori ci permettono di portare a casa delle immagini enormi anche piuttosto pesanti dal punto di vista dei megabyte che però possono avere in alcuni momenti la loro utilità se questo discorso non vi serve scattate con la modalità automatica con risoluzioni nettamente più basse in quel caso il telefono sicuramente riesce a portare a casa qualcosa di meglio allora il telefono a me è molto piaciuto è una delle recensioni forse più lunghe che sono riuscito a eseguire con gli smartphone perché l'ho portato con me in tantissime diverse circostanze di utilizzo è un telefono che mi è piaciuto che trovo ben costruito ben assemblato con buoni materiali ribadisco il display forse non è la cosa il miglior display che c'è sul mercato ma va davvero benissimo più che altro è il picco di luminosità più che la resa colore c'è qualcuno che fa meglio ma la resa colore è certamente molto buona c'è una buon livello di autonomia con l'eccellenza della ricarica a 120 watt abbiamo appena finito a parlare della fotocamera non è il miglior camera phone ma permette di fare delle cose molto belle considerate anche in ambito video che avete il 4k a 60 l'8k a 24 quindi sono addirittura delle risoluzioni più alte di quello che servono in questo periodo però poi vi torneranno utili magari in futuro per quanto mi riguarda non ci sono reali difetti anche l'interfaccia utente è un'interfaccia potente con tantissime funzioni e in definitiva è uno smartphone che mi stento davvero di consigliare a chiunque a me è piaciuto veramente veramente tanto mi fermo qui per il racconto del nuovo Xiaomi 12 T Pro e vi rimando alle prossime recensioni un saluto da Iman iscriviti al nostro canale